La primavera, ci siamo Francesca, ok, attenzione al via si parte, pronti, via, è della volta della primavera, vediamo le tecniche se sono, se c'è qualche tecnica particolare, le piccole hanno qualche difficoltà, con nessuna ragione, devi tornare velocemente, il masco non può aiutare per nulla, vai, così, più tempo, vai, c'è la decana? Bravo, così, così, quelle leggere hanno qualche problemino, è finito il giro e ribarte Francesca, primo minuto ha trascorso, ha messo prima la retromarcia, ha detto così arrivarai, ha spinta, Matteo chiude gli occhi, non lo vedo particolarmente contento, così, più lento, aspetta, guardate la guardate la guardate la sostegno della primavera, anche questa trovate in allenamento, questo tipo è il, ecco qua, si è affrezzata bene, vediamo il tempo, due minuti trascorsi, ultimo minuto, alessandra stanchissima, se riparte Francesca, il primo colpo, 30 secondi, 30 secondi, vediamo se ce la fa, 13 secondi, questo è il quattordicesimo, momento, a 2.50 è avvenuto lo stoppio, quanto manca? Non ce la fa, non ce la fa, 4, 3, 2, 1, stop! Ciao!